Maurizio Mirarchi non è più l'allenatore della Carpisa Yamamai Acquachiara. Il tecnico imperiese ha rassegnato le dimissioni al termine di un colloquio sollecitato da lui stesso col presidente onorario acquachiarino Franco Porzio. Mirarchi lascia per motivi di salute, dovrà infatti sottoporsi ad un intervento alla vista, ma non solo. Serviva una scossa alla squadra che finora non ha reso secondo le proprie potenzialità, spiegato infatti l'ex allenatore di Bogliasco, Lazio e Roma. L'acquachiar attraverso il suo presidente onorario Franco Porzio ringrazia il tecnico per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo, grazie al quale si è ottenuta la promozione nel massimo campionato di pallannuoto e la conquista ai playoff scudetto al primo anno di A1. Al momento la società non ha reso noto il nome del successore di Mirarchi. Decideremo entro le prossime 48 ore sul da farsi, ha precisato Franco Porzio. Inevitabilmente scatta dunque il toto allenatore in casa Biancazzurra ed iniziano a circolare già i primi nomi dei possibili candidati alla panchina Biancazzurra. In primis Pino Porzio, fratello di Franco, ex allenatore di Posilipo e Recco e socio della Porzio Sport Management, la società organizzatrice di eventi gestita da due campioni napoletani che negli ultimi dieci anni ha vinto ben otto scudetti, cinque coppe dei campioni e sei coppe Italia. Attualmente il tecnico partenopeo è stato opzionato dalla federazione australiana per guidare la nazionale giallo-verde verso le prossime Olimpiadi del 2016 ma non vi è ancora alcun accordo ufficiale per cui gli scenari sono tutti aperti. Gli altri papabili sulla lista di Franco Porzio sarebbero il professore Paolo De Crescenzo, suo vecchio allenatore nel grande Posilipo pluriscudettato e Zoran Roie, indimenticato difensore della Canottieri Napoli ed ex tecnico del Primorierieca. In ogni caso pronti anche le soluzioni interne con Tamas Mertz, faro del gioco biancazzurro, che potrebbe essere richiamato a ricoprire il doppio ruolo di allenatore giocatore o la possibilità di affidare la panchina al vice allenatore di Mirarchi Roberto Brancaccio che traghetterebbe la squadra fino al termine della stagione.